Davanti al sindaco di Biella Claudio Corradino hanno reso giuramento nella sala consigliare di Palazzo Roppa presenti l'assessore della polizia locale Giacomo Moscarola e il comandante del corpo di polizia locale Massimo Migliorini quattro unità di personale del corpo di polizia locale assunti a tempo indeterminato. La cerimonia è anche stata occasione per ribadire l'importanza del riconoscimento della figura di agente che necessita di essere accompagnato da un proficuo impegno a servizio della collettività e quanto hanno spiegato il sindaco Corradino e il vice Moscarola. Confidiamo in voi, hanno detto, e proseguite nel vostro compito volto a garantire la vivibilità sociale e la sicurezza della nostra comunità. Augurando buon lavoro a Michela Gastaldi, Daniele Lanza, Marco Ribaldone e Verano Eccatamaro il vice sindaco ha anche sottolineato l'importanza del compito che voi agenti svolgete al servizio dei cittadini per garantire la sicurezza nella nostra comunità. Il nostro referente unico è infatti il cittadino. A inizio mandato, ancora ricordato Moscarola, si ragionava sul piano di assunzioni del comune. In questa occasione abbiamo accolto le sollecitazioni e le richieste del comandante Migliorini sulla necessità di rinforzare l'organico della polizia locale. Ancora giunto Moscarola, credo che stiamo facendo un buon lavoro. Siamo consapevoli, ha ancora detto il vice sindaco, di quale dedizione ogni agente ammette nel proprio lavoro. E proprio per questo ha rivolto un invito ai nuovi agenti di seguire l'esempio di chi già è in servizio per garantire giorno dopo giorno la sicurezza della città. Grazie. Grazie.